Ciar di Beppe nasce a Venezia, il 18 marzo 1875. Dopo aver studiato le scienze naturali all'Università di Padova, si iscrive nel 1896 all'Accademia di Belle Arti di Venezia, dove ebbe come maestro un altro grande artista, Ettore Tito. Potè pertanto studiare accanto al paesaggio, la figura. Nel 1894 aveva esposto a Milano, al Castello Sforzesco, 60 studi dal vero compiuti dai 15 ai 19 anni, per i quali ebbe un reale successo. Tenne mostre personali in Italia e all'estero, le sue opere principali sono L'Isola della Follia, Pastorella e Carro di Fieno, acquistato dal re, la Torre di Tessera, nella Galleria Mussolini. Artista innamorato della natura, alla quale si attenne scrupolosamente, cercando di coglierne gli sfolgori e i riflessi di luce più suggestivi, per otre un quarantennio lavorò ininterrottamente producendo una grande quantità di opere che sono sparse in tutto il mondo fra i migliori collezionisti. Alla Biennale Veneziana del 1912 espose in una sala apposita ben 45 opere. Ciar di Beppe, si spense a quinto di Treviso, il 14 giugno 1932.